buongiorno amici siamo qui con il dottor corrado palmas denti fissi con il sistema bocca bionica buongiorno come stai innanzitutto emozionato emozionato perché stiamo avendo un grande riscontro col libro che ho pubblicato veramente non mi aspettavo i risultati che ho ottenuto grazie a voi per il supporto esatto esatto primo su amazon tantissimi giornali agenzie di stampa stanno riprendendo la notizia dell'uscita del tuo libro sicuramente quello dei denti è un tema molto sentito allora raccontaci un po nello specifico di cosa parla il tuo libro è un libro che dà la soluzione un percorso di soluzione a pazienti che hanno perduto diciamo ormai non dico la fede ma la fiducia nel medico che hanno sofferto per decenni problemi di rea quella che quella malattia che causa la perdita di denti cidenti gravi anche stradali che li hanno portati a perdere tutti i denti o errori di altre equip mediche e che hanno speso decine decine di migliaia di euro dal medico per provare a curare ma non sono mai riusciti rischiano di cadere l'ennesima volta nella trappola di chi vende soluzioni semplici semplicistiche promettono di dare risultati con delle metodiche che poi possono portare invece un ulteriore fallimento io gli indico una guida e gli illustro quello che il sistema ha sviluppato in oltre dieci anni con la mia equipe multinazionale tra Italia Moldavia Romania più di 500 persone che lavorano su appunto sistema bocca bionica che offre una soluzione invece con risultato garantito wow wow complimenti devo dire è una roba innovativa magari raccontaci meglio questa tua parte proprio di lavoro quindi la gente leggerà il tuo libro ma cosa c'è poi dopo il libro quali servizi esattamente offri dove devono venire le persone sì tutto a parte dalla consapevolezza il libro è un libro divulgativo sulla consapevolezza intanto che c'è una via d'uscita e do delle strategie nel libro su come evitare di incappare appunto in milantatori ecco di soluzioni che poi non offrono la soluzione e quindi cosa invece bisogna tenere conto cosa bisogna tenere conto quando si fa la scelta di un team di lavoro su casi complessi come questi quindi come selezionare il gruppo di lavoro l'equip multidisciplinare soprattutto cosa bisogna guardare perché sai delle volte si tende a fare molta pubblicità soprattutto in questo settore su alcune tecniche che poi mettono molto l'accento su alcuni aspetti che servono per allontanare invece la discussione da altri aspetti che sono molto più importanti e quindi faccio chiarezza nel libro do un ordine mentale al malato su come dovrebbe invece affrontare la ricerca della soluzione che poi è valido per tutti i settori questo poi chiaramente dopo il libro c'è tutto il sistema educazionale che accompagna il paziente anche durante la risoluzione quindi del suo percorso clinico paziente informato è già un paziente mezzo salvato ok diciamo così se un paziente invece non si informa non studia non ha una guida anche perché non gliela insegna una scuola come scegliere alle persone e quindi vanno a prendere degli elementi come può essere per esempio il prezzo solamente il prezzo per prendere poi delle decisioni il cervello va in stand by o meglio in pilota automatico e prende altri elementi che poi non sono in realtà la garanzia del successo e quindi una apparente risparmio può risultare in un ulteriore danno biologico e quindi le cose si aggravano diventano ancora più complesse diventa tutto buio io gli offro la luce alla fine del tunnel che li porta una soluzione garantita mi piace mi piace molto il tuo approccio mi piace l'idea che il cliente vada formato è quello che pensiamo anche noi nel nostro settore e credo che raramente si faccia nel tuo settore no quello proprio di aiutare le persone a capire cosa devono fare ottimo lavoro hai scelto proprio un libro per fare questo lavoro divulgativo allora l'ultima domanda è come mai hai scelto per pubblicarlo bruno editore diciamo che ho optato per bruno editore perché sono riconosciuti come dei leader siete dei leader nel settore avete già supportato migliaia ho visto di autori a divulgare la loro conoscenza a un pubblico vasto e chi meglio di un team con tante storie di successo mi avrebbe potuto aiutare in questa missione bene grazie 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 a te è stato un viaggio che abbiamo fatto insieme in questi mesi e allora vorrei invitare tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento andare su amazon cercare il libro del dottor palmas perché se avete un problema con i denti non sapete come muovervi volete anche vedere scoprire nuove soluzioni allora questo libro vi può dare tante idee tanti spunti anche un metodo totalmente nuovo e diverso dagli altri quindi grazie mille corrado per questa intervista a prese grazie a voi ciao